Presidente Di Sabatino, cosa ha chiesto al commissario straordinario Errani? Ho chiesto che nel rispetto delle priorità di ricostruzione che sicuramente vedono prima di noi quelle popolazioni, quei comuni che sono stati colpiti pesantemente dal sisma, quindi nel rispetto di queste priorità ci sia un'attenzione anche per questo territorio a prescindere dall'inserimento o meno dei comuni nel cratere, cioè tutti i territori abbiano la stessa linea di azioni, la stessa attenzione e anche sui tempi non si venga dietro ad altre situazioni, quindi un'omogeneità degli interventi è anche nelle risorse a disposizione. Le scuole che non hanno ancora riaperto riapriranno il 19 settembre? Il 19 riapriranno tutte le scuole, abbiamo fatto veramente i salti mortali con i lavori di ripristino dei danni che avevamo ricevuto, le scuole superiori della provincia riaprono tutte, ci sono in alcuni edifici delle inagibilità parziali per le quali naturalmente lavoreremo. Nel frattempo abbiamo già speso 315 mila euro soltanto per i lavori di ripristino per i quali abbiamo naturalmente eseguito le procedure che ci sono state messe a disposizione. Ma guardi, sulle scuole della provincia c'erano dei problemi che il Presidente so che ha risolto, sulle scuole del Comune era solo un'opera di macchiage e di sistemazione di alcune piccole crepe, intonaci che in questa settimana abbiamo risolto, abbiamo provveduto anche a fare ulteriori verifiche con la protezione civile e diciamo che le scuole riaprono, io direi con grande serenità. Oggi ha detto bene Curcio che la parola garantire nel suo vocabolario non c'è più, se lo dice Curcio vuol dire insomma questo un significato ce l'ha. Però noi abbiamo fatto tutto quello che era possibile per dare la massima sicurezza, la massima serenità, ripeto, per le mamme e per i nostri ragazzi. Le scuole riaprono, partiamo con le verifiche antisismiche nei 19 edifici dove non c'è, 12 sono state già verificate, insomma riteniamo a breve di poter dare anche quelle risposte che oggi i genitori ci chiedono.